Mi arrivano tante domande, strutturate più o meno tutte quante nello stesso modo. Ci faccio un video così poi rimando questa gente al video. La situazione è la seguente. Sto frequentando qualcuno, uomo o donna che sia, è uguale. Questa persona è da poco uscita da una relazione e ancora è molto legata alla relazione precedente. E allora si crea una sorta di tira e molla. Quindi io le faccio qualcosa di bello, un regalo, la porto fuori a cena, lo porto fuori a cena, non lo so, andiamo a fare un viaggio. Lì per lì è molto contento, dopo un po' però sembra quasi ritrarsi perché ha paura di vivere un'emozione così forte. Allora che fare? Risposta breve. Scappa, scappa a gambe levate. Non vale la pena buttare il cuore dietro ad una persona che non se lo merita, ma non è disposta a dargli la giusta importanza. Risposta lunga. Innanzitutto bisogna cercare di capire se questa persona è semplicemente legata alla relazione precedente. Che ci sta è fisiologico. Se esce da poco da una relazione è normale esserci ancora legato, stare male, ripensarci. È ovvio. Oppure, situazione più grave, non è legato ma è invischiato in quella relazione. Cioè ci è così tanto legato da non riuscire a uscirne. Questo è un bel problema. Questo è un bel problema perché una situazione del genere distrugge totalmente tutte le possibilità di creare una nuova relazione. Allora l'unico consiglio che mi sento di dare è quello di darsi dei tempi. Guarda, ciccio, ciccia, ti sto dietro per un mese. Se dopo un mese non vedo che la situazione sia sbloccata, un mese può essere il tempo che vuoi, eh. Ma se la situazione non si sblocca in un mese, di certo non si sbloccherà in un anno. Capiamoci. Bene, se vedo che la situazione non si sblocca, ti voglio tanto bene, ti amo, ma amo di più me stesso. Quindi è stato bello. Addio.